Sono Eva Venaruzzo e frequento il liceo Le Filandiere di San Vito al Tagliamento. Jacopo Corazza, frequento anche io la stessa scuola. Sono Greta Girardi e frequento anche io la stessa scuola. Perché sei venuta allo Student Day, in particolare all'Università di Udine? Sono venuta a Udine principalmente per questioni comunque di distanza rispetto a dove abito e sono venuta qui in particolare per avere qualche informazione in più riguardo a infermieristica e sì, appunto per capire un attimo le facoltà, le materie, cosa si studia più o meno, i crediti, per avere qualche informazione in più soprattutto. Invece tu perché sei venuto allo Student Day? In particolare c'era una facoltà, un dipartimento che ti interessa soprattutto? Sì, allora io sono venuto qua per riformarmi su medicina e chirurgia e mi interessava vedere le differenze rispetto alle altre università, quindi ad esempio quella di Triesto, quella di Padua, che sono le più vicine e quindi riguarda il piano di studi e come si organizzano soprattutto per i tirocini. Greta, che cosa ti aspetti da questo Student Day 2020 all'Università di Udine? Quali sono le tue attese? Mi aspetto di avere le idee un po' più chiare, in particolare sono interessata alla facoltà di infermieristica e anche a come si svolge magari il test d'ingresso o quali sono gli sbocchi professionali di questa facoltà.